allora torniamo a parlare delle mie birre e in particolare mi si chiedeva che fine avesse fatto la mia belgian dark strong ale quindi oggi ve lo racconto vera assaggio ma prima di tutto ve la presento visto che una new entry di quest'anno quindi un nuovo personaggio che nessuno ha indovinato l'avete già visto dal titolo del video comunque trattandosi di una birra dalla gradazione alcolica così importante non poteva che essere dedicata a lui il robin hood al contrario colui che ruba i poveri per dare ricchi ovvero il mitico super ciò che vi faccio vedere l'etichetta sulla bottiglia grande anche se poi ne sta però una piccola allora come di consueto vi dico due cose sulla ricetta prima di aprirla quindi abbiamo detto una belgian dark strong ale grist abbastanza variegato contiene una base di pilsner belga poi c'è del munich dell'aromatic del cara munich dello special b e del wheat come lupolatura c'è dell'alert tower solo per l'amaro come mesh ho fatto un mesh a 67 gradi anche se poi è scivolato anche sui 68 mentre come lievito ho usato lievito secco mangrove jacks l'm 41 beige a nail e come vi avevo raccontato visto che aveva un oggi parecchio alto 1092 ne avevo messe due bustine non so se per questo motivo o perché questo lievito che usavo per la prima volta è veramente una sua caratteristica ma nonostante il mesh fatto a temperatura insomma non tanto bassa e anche nonostante l'oggi piuttosto alta ho avuto una un'attenuazione notevole un'attenuazione apparente del 90 per cento praticamente quindi un fg che è arrivata a 1009 per una gradazione alcolica di undici gradi e mezzo e il problema si è rivelato un po in seguito perché nonostante un'attenuazione così alta e nonostante avessi misurato che la fermentazione sembrava ferma da qualche giorno prima di imbottigliare evidentemente ha avuto il coraggio di abbassarsi ancora in bottiglia perché i primi essaggi ho visto che la bottiglia faceva un po di gushing aveva una carbonazione un po eccessiva e misurando la densità della della birra in bottiglia con con il rifratto metrò ho visto che era scesa ancora di un paio di punti quindi di un punto no non di due di un punto uno zero zero otto quindi anche la gradazione alcolica probabilmente arrivata intorno ai 12 gradi ma il problema è appunto questo qua che tende un po a essere esuberante al momento di stappare comunque ci proviamo e la sappiamo questa è la mia bottiglietta questa è stata anche abbastanza tranquilla sì non è che faccia la fontana ecco però se si lascia se si sta per si lascia lì esce fuori la schiuma allora la birra presenta un po di cil e non è limpidissima ma è proprio una questione di cil e che la bottiglia a temperatura ambiente è bella limpida mentre una volta raffreddata prende un po questa velatura la schiuma non è male abbastanza fine il colore se non è non è scurissimo nombrato scuro al naso si percepisce la prima cosa un po proprio l'odore di alcol un leggero fruttato una punta di speziato anche profumo interessante niente di impressionante un po dominato da questi sentori di alcol diciamo così assaggiamo salute anche in bocca i due elementi predominanti sono anche qui l'alcol che che si sente e si sente anche un po troppo e allo stesso modo la la carbonazione che anche se in uno stile così ci può stare una carbonazione un po abbondante qui è forse leggermente eccessiva causa del problema che dicevamo prima come gusto non è male non è affatto male ci si sente un po di un po di fruttato di uvetta un po di speziato tipo di pepe qualcosa del genere dato probabilmente da lievito giudicare questo lievito non lo so se non è male però non mi sembra che caratterizzi particolarmente la birra forse come come dovrebbe non lo so lì è un po difficile giudicare perché tutti i vari sentori si sente che è una birra abbastanza complessa però probabilmente avrebbe bisogno ancora di qualche mese di maturazione adesso sono ancora forse un po ancora slegati nonostante sia in bottiglia da quasi tre mesi però c'è ancora questo alcol che si sente molto magari con il passare del tempo potrebbe ammorbidirsi e amalgamarsi meglio gli aromi quindi magari ci torneremo sopra se sarà il caso ci tornerò sopra più avanti anche perché con questo caldo non è esattamente la birra ideale da bersi con le temperature di questi giorni adesso sì questi sentori sono ancora un po coperti dal dal sentore di alcol proprio che oltre che al naso si ripropone come dicevo anche in bocca però tutto sommato una birra che promette bene rimane un filo di schiuma in superficie aspetto sì mi piace a parte questa questa bellatura però un bel aspetto come corpo a causa di questa attenuazione rimane abbastanza secca ineditabilmente anche se non è sicuramente una birra acquosa ecco rimane tutto sommato abbastanza bene harina anche nonostante nonostante l'alcol è una birra che che scorre bene in bocca e come amaro non è proprio dolce si sente rimane in bocca un leggero amarognolo forse anche un filo troppo per lo stile però anche lì ci può ci può ancora stare niente ne ne riparleremo come dicevo probabilmente un po più avanti sperando che le temperature in cantina che stanno salendo adesso durante l'estate non mi facciano scherzi di lo scherzo di peggiorare ulteriormente il problema di sovracarbonazione per il resto vi saprò dire oltre a questo assaggio vi posso raccontare che ho appena imbottigliato la lanford l'ultima cotta della stagione che anche questa ha avuto una fermentazione particolarmente lunga e un'attenuazione particolarmente alta ma ne riparleremo poi più avanti e quindi imbottigliando questa ho definitivamente chiuso la produzione per questa stagione e se ne riparnerà insomma ad ottobre con la stagione nuova e con questo è tutto quindi vi saluto appuntamento al prossimo video come sempre mettete un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e saluto a tutti